Gentili telespettatori, buona giornata, parliamo di meteo. A settembre potrebbero esserci dei fenomeni estremi, abbiamo parlato spesso dell'estremizzazione del clima, da tormente quasi tropicali o tropicali, venti fortissimi, temporali, molto intensi e poi siccità caldo intenso. Si va, come dicono gli esperti, verso un'estremizzazione del clima e a settembre potremmo avere proprio dei fenomeni estremi. Il rischio è dei cicloni medicane, è la previsione di Giuliacci. Andiamo verso un inizio di autunno caratterizzato dagli eventi atmosferici estremi. Le previsioni meteo per settembre creano non poche preoccupazioni alla fine di un'estate in cui il caldo torrido, le temperature record, si sono alternati con precipitazioni molto forti, seppur rare. A fornire i dati aggiornati è il Centro Europeo per le previsioni a lungo termine. È il sito del colonnello Mario Giuliacci che si chiama meteogiuliacci.it. Ebbene, le prospettive per un primo mese autunnale sono abbastanza particolari, tanto che potremmo andare verosimilmente incontro a una stagione ricca di episodi estremi. Il modello previsionale europeo prevede addirittura il pericolo di fenomeni alluvionali, vere e proprie alluvioni. Come detto, siamo nel campo delle previsioni a lungo termine e giocano un ruolo fondamentale i dati dei mesi passati. Lo scorso mese di luglio è risultato il più caldo mai registrato sul pianeta Terra. E questo caldo intenso condiziona le temperature dei mari, con valori che si sono portati intorno ai 28-30 gradi su buona parte dei mari. Parliamo di un'anomalia di circa 4-6 gradi oltre le medie che va a fornire il carburante necessario per lo sviluppo di fenomeni meteo estremi. Quindi il mare troppo caldo provoca poi dei fenomeni, il contrasto delle temperature provoca l'estremizzazione del clima con dei fenomeni molto forti. Queste condizioni, quelle del mare caldo, predisponenti, per esempio, potrebbero portare sulle aree meridionali allo sviluppo di medicane scatenanti, ossia una tempesta nostrana che sviluppa caratteristiche di tempesta tropicale. Spiega il sito che fa notare come al momento è impossibile prevedere se, quando e dove si svilupperanno i cosiddetti cicloni tropicali mediterranei. Ma probabilmente ci saranno, nel senso non è che è una previsione dire allora il 22 di settembre attenzione perché al centro-sud in particolare no, ci sono le condizioni perché questi fenomeni estremi accadano, succedano. Intanto sulle regioni del centro-sud insiste il rischio di eventi alluvionali e il periodo critico è proprio settembre-novembre, tanto che ogni anno c'è sempre qualche episodio estremo. I meteorologi continueranno a monitorare le temperature delle acque superficiali dei nostri mari che potrebbero fornire l'energia termica necessaria per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche. Perturbazioni forti che scaricano grandi quantità di acqua in tempi e spazi ristretti. Questo è quanto dice il colonnello dell'aeronautica Giuliacci proprio oggi nel suo sito sulle previsioni del tempo. Intanto vi racconto di uno studente universitario che vende l'aria di mare in barattolo, il souvenir in vendita in alcuni bar di Porto Cesareo nel Salento a pochi euro. I turisti li acquistano divertiti considerata la cifra modica e anziché la vecchia cara cartolina portano a casa delle vacanze un po' di fantasia. Quindi nel Salento si vende aria di mare in barattolo. La trovata di uno studente universitario che riprocorrendo le orme dei partenopei di Spaccanapoli qualche anno fa e lavorando di immagine e packaging ha pensato bene di creare un souvenir piccolo, differente, economico e originale. L'idea viene raccontata dall'ideatore Antonio Delia, è nata prendendo spunto da un business americano che qualche anno fa confezionava aria delle grandi città americane in barattoli di metallo. Loro ci mettevano davvero l'aria descrivendone la derivazione. Allo stesso modo l'idea l'ho reinterpretata in versione ovviamente ironica da souvenir e territoriale. dice volevo realizzare un piccolo souvenir diverso dal solito e che potesse strappare un sorriso. Una trovata che già a Spaccanapoli aveva riscorso un successo tra curiosità, motteggi e opinioni diverse con l'aria di Napoli in bottiglia. Stavolta però la questione si arricchisce di particolarità ulteriori, intanto il dialetto e poi l'edizione limitata. Infatti è scritto in dialetto aria di mare. Tre sono infatti le tipologie di invendita, pochi euro, quelle che corrispondono ad altrettante località simbolo della costa di Porto Cesareo. Nanzi la torre, ovvero di fronte alla torre, punto paesaggistico della torre di San Tommaso di Torre Lapillo, la Sapunara, nome dell'ensenatura storica di Torre Lapillo, e gli entuti tramontana, cioè il vento di tramontana, quello che rende lo ionio calmo e cristallino. E c'è anche un espositore, se non sbaglio, anche di plexiglass, con proprio questi diversi tipi di barattolo, con un tappo di sughero, una corda di juta, l'etichetta, aria di mare, nanzi la torre, di fronte alla torre. E dentro è vuoto, non c'è niente. I barattoli sono in vendita in alcuni bar della località balneare a pochi euro. I turisti così li acquistano divertiti a modica cifra. Non si vede nulla oltre il vetro e ci vuole davvero della fantasia. Ogni barattolino, dopo essere stato confezionato, riceve la sua particolarità di profumo, metodo lasciato top secret come le grandi aziende. Grazie a tutti per avermi ascoltato, buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te. Grazie nuovamente e ci vediamo presto. Grazie a tutti.